bellutata di carote e zenzero dimagrante e abbronzante ciao amici con il caldo cosa c'è di meglio di un piatto fresco veloce detox che attiva il metabolismo e protegge la pelle oggi voglio condividere con voi una delle mie ricette estive preferite io la adoro perché è un sapore delicato è cremosa al punto giusto e piace a tutti salutisti e non è super detox e velocissima infatti non bisogna cuocere niente si prepara a crudo che sollievo niente pentole da lavare mi piace se piace anche a voi mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video tempo di preparazione 10 minuti circa ingredienti per due persone 4 carote un avocado un cucchiaio di salsa di soia un cucchiaio di alga dulce in fiocchi 2 centimetri di radice di zenzero preparazione estrarre il succo delle carote con una centrifuga o un estrattore pelare lo zenzero e tagliarlo a piccole fettini sottili sbucciare l'avocado estrarre il seme centrale e tagliarlo a pezzetti mettere il succo di carota lo zenzero e l'avocado tagliato in un frullatore step 2 frullare bene fino a ottenere una crema omogenea a questo punto aggiungere la salsa di soia e le alghe in fiocchi e frullare una seconda volta ecco fatto basta versare nel piatto e gustare la vellutata a temperatura ambiente ecco perché è detox dimagrante e prepara la pelle all'estate proprietà degli ingredienti le carote hanno un'importante funzione antiossidante e ostacolano l'invecchiamento della pelle grazie al beta carotene proteggono dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti solari e stimolano la capacità di abbronzarsi lo zenzero è detox digestivo stimolante e antifermentativo contro la pancia gonfia la spezia perfetta che non deve mai mancare in estate infatti ne ho parlato in diversi video e con tante ricette l'avocado è ricco di proteine e grassi sani naturali ideali per attivare il metabolismo l'alga dulce è ricca di aminoacidi e minerali in particolare iodio amico di tiroide e metabolismo ne mangerò di più quest'estate allora e fai solo bene la salsa di soia è ricca di enzimi che stimolano l'energia delle cellule che regolano la digestione gustate la vellutata e apprezzate il senso di leggerezza detox e freschezza che vi farà subito sentire per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e vivi meglio buona vellutata a tutti va in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao